Domenica 15 marzo alle 10.30 nella concattedrale di Bitonto si svolgerà la Santa Messa Domenicale, la preghiera di supplica e affidamento della nostra città e dell'umanità tutta alla Vergine Immacolata, patrona della città dell'Olio. La Messa e la supplica, rigorosamente a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook di Radio W0, in TV sui canali 78 e 881 in Puglia e Basilicata, 881 in Piemonte e 656 in Lombardia. Su Teleregione, al canale 14 del Digitale Terrestre, verrà trasmessa in replica alle 19.45. Alle 11.15 di domenica tutte le campane della città suoneranno all'unisono per alcuni minuti in segno di unità e di partecipazione spirituale di tutte le comunità parrocchiali alla supplica mariana. Mentre ci affidiamo all'impegno di medici e studiosi e alle indicazioni delle autorità, scrivono tutti i parroci in una nota, da credenti sappiamo di avere anche un riferimento ben più alto, la confidenza nell'amore provvidente del Signore per invocare la Vergine Immacolata, Madre di Misericordia e affidarci alla sua materna intercessione, significa per noi essere sicuri che Ella, come in ogni momento grave della nostra storia, non mancherà di presentare all'Onnipotente il nostro bisogno di vita e di indicare a noi la via sicura per la salvezza, farci servi della parola che è Cristo. E continuano, a Maria Santissima, Celeste e Patrona, nuovamente consacriamo la nostra città e il mondo intero, affidandole i più sofferenti e tutti coloro che si stanno instancabilmente impegnando a fronteggiare l'emergenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.